La Commissione europea, nei prossimi anni, investirà molte risorse ed energie su cinque missioni, ovvero obiettivi particolarmente sfidanti e importanti per la società europea. Una di queste cinque riguarda il suolo. Entro il 2030, il 75% dei suoli europei devono tornare a essere salubri, perché adesso non lo sono. Avere abbandonato le campagne, eccessiva urbanizzazione, il disesto ideologico, gli effetti di cambiamento climatico, pratiche agricole non sostenibili, hanno fatto sì che i suoli adesso non siano salubri, perdendo anche di vigore e di fertilità. Questo non ce lo possiamo permettere. Questa situazione è particolarmente deficitaria, è particolarmente critica in Italia e quindi si tratta di una grande opportunità. Quali sono le linee azioni? Quattro, primo, co-creare, cioè lavorare insieme, progettare insieme investitori, imprese, cittadini, ricercatori. Secondo, più ricerca e innovazione, portando i frutti dell'innovazione nelle imprese e nelle comunità. Terzo, monitorare più attentamente. Quarto, divulgare, formare, far capire ai cittadini quanto è importante questa questione e che le soluzioni ci sono. Solo lavorando tutti insieme potremo far fronte a una delle più grosse sfide che riguarda le nostre collettività.